Una squadra in crescita, dice Gennaro Di Maio, vice allenatore del Barletta. A poche ore, dalla sfida di matino contro il Nardò, i Salentini sono in crisi di risultati e non solo, ma i biancorossi non devono abbassare la guardia. Sicuramente è una squadra agguerrita che ha voglia di fare punti, perché parliamo di una squadra attrezzata per la vittoria finale, una squadra che, almeno sulla carta, è migliorata rispetto a quella dello scorso anno, hanno vinto una finale play-off, quindi ci aspettiamo sicuramente una grande voglia di riscatto. Noi, dal canto nostro, dobbiamo fare come è il nostro solito, cercare di imporre la partita, fare il nostro gioco e continuare sulla scia di domenica, perché secondo me è stata fatta una prestazione di livello, è mancato solo il risultato pieno e continuando su questa strada credo che ci possiamo togliere davvero grandi soddisfazioni, quindi cercheremo di andare là e fare un risultato importante. Nello 0-0 contro il Gallipoli è mancato il guizzo vincente, Di Maio però è soddisfatto di quanto visto in campo. È mancato il guizzo e l'importante è arrivarci in questo momento, poi step by step cercheremo di migliorare anche la fase di finalizzazione, però la squadra ha dimostrato che ha creato 6-7 palle goal, 2 traverse, quindi stiamo parlando, secondo me, di una squadra in netta crescita, quindi l'obiettivo è mantenere quel tipo di prestazione, migliorarla e legarci un risultato importante. La difesa ha dato ottimi segnali, Lobosco e Silvestri si sono rivelati due elementi di sicura affidabilità, Marsili tornerà a disposizione, out di piazza. L'unico che non ci sarà sarà di piazza, che ha avuto un problema, un'elongazione all'adduttore, quindi non farà parte della trasferta, e per il resto tutti a disposizione.